È il 13 febbraio del 2014, un uomo di nome Kevin Bennett si sta recando a lavoro in macchina come ogni mattina. È tutto uguale al solito, stesso tempo, stesso traffico e stesso uomo che balla in un incrocio. A St. Louis nel Missouri è una figura molto conosciuta, praticamente ogni mattina questo uomo si piazzava lì, non diceva una parola, non chiedeva soldi a nessuno, semplicemente ballava. Kevin Bennett, come molti altri, trovava che assistere a tutto ciò andando a lavoro di prima mattina fosse magnifico. Quell'uomo che ballava riusciva a trasmettere un senso di serenità e felicità a chi lo guardava, un senso di leggerezza. Quella mattina del 13 febbraio 2014 allora Kevin decise di fargli un video e pubblicarlo nel suo canale YouTube. Ricevette almeno 10.000 visualizzazioni nei primi tempi e venne addirittura menzionato in un giornale del posto. Era un giornale abbastanza conosciuto, la Fox News. La comunità locale voleva davvero sapere di più sul suo conto. Al tempo nessuno lo conosceva davvero, ma adesso sappiamo tutto e il motivo per cui ballava è più oscuro di quanto possiate immaginare. Il suo nome è Seth Herter e quello a cui le persone stavano assistendo non era un semplice ballo spensierato, ma il lento declino di una mente umana. In quel periodo Seth era un uomo disoccupato con varie condizioni psicologiche particolari, il che lo portò ad avere un comportamento sempre più strano. In modo particolare sul web spiegava le sue bizzarre ideologie religiose. Tramite il suo account Twitter, che è ancora attivo, si può facilmente trovare questo link. Cliccandolo verremo reindirizzati ad un sito chiamato Blogspot, dove Seth aveva un blog chiamato Un ragazzo cattolico a San Luis impara il luteranesimo. In questo blog possiamo trovare 7 articoli scritti in appena 3 mesi del 2014. Sentite alcune delle sue parole. Preparate i vostri cuori amici, per davvero questi sono i giorni finali del regno del terrore in questa terra. Gesù Cristo tornerà presto per prendere il suo posto nel trono della terra e porterà con sé il suo impero intergalattico. In un altro articolo invece scrive, possiate iniziare ad odiare le regole della società che sono malvagie e provano ad oscurare la nostra mente e il nostro spirito e distruggere il mondo. Amen. Dando un'occhiata a queste righe possiamo intuire che il suo pensiero era fortemente antisociale, andava contro ogni schema della realtà dell'uomo, ma in mezzo a tutte queste sue dichiarazioni Seth ha anche parlato dei suoi balli. Non si riferiva a loro come se fossero delle performance oppure un hobby, ma come una sorta di rituale religioso che usava per diffondere il suo messaggio. Messaggio che non ha mai divulgato espressamente o in modo esplicito. Un suo tweet però sembra chiarire quale fosse. Amerò tutti gli esseri viventi per sempre e cercherò di non uccidere, far male e distruggere alcun essere vivente. Non un albero, non un uccello, non un'ape e non una libellula. In teoria quindi Seth voleva trasmettere un messaggio di pace e forse era davvero così. Con il tempo però sembra che questa sua visione inizi a sfocarsi lentamente. Durante quegli anni Seth aveva spesso avuto problemi a mantenere una residenza fissa. Veniva sfrattato per la mentele sul rumore e la forte puzza di fumo. Nel 2018 poi finalmente riuscì a trovare un appartamento nuovo ed è proprio lì che la sua psiche avrebbe preso una svolta davvero disturbante. Poco tempo dopo il suo trasferimento i vicini iniziarono a muovere le prime lamentele. Dichiaravano di averlo visto più volte correre lungo il corridoio avanti e indietro tenendo in mano una katana. Ma ancora peggio qualcuno ha detto di averlo visto fuori dall'edificio di notte. Se ne stava al buio da solo con la spada in mano danzando per ore e ore. In quegli episodi era come in uno stato di trance completamente immerso nel suo mondo incosciente della realtà intorno a lui. Chiaramente spaventati i vicini si lamentarono più volte ma il comportamento di Seth continuava a peggiorare. Il ragazzo iniziò a insultare i suoi vicini e litigare con loro senza motivo mostrando una rabbia incontrollabile e senza senso. Più passava il tempo e più questa rabbia cresceva diventando sempre più incontrollabile. Purtroppo non possiamo sapere cosa pensasse Seth in quel periodo dato che aveva totalmente abbandonato ogni social o blog in cui aveva condiviso le sue idee in passato. Negli anni immediatamente precedenti ha fatto perdere completamente le sue tracce sul web fatta eccezione per un singolo sito Amazon. Su Amazon a Seth piaceva recensire gli articoli che acquistava specialmente testi e vari oggetti religiosi. Questi le aveva comprati prima che il suo comportamento diventasse problematico ma a partire dal 2018 i suoi acquisti e le sue recensioni iniziarono a diventare sempre più strane e preoccupanti. Quella che più colpisce dato che è possibile trovarla molto facilmente è la sua recensione di questo set di spade e coltelli. Seth li acquistò ad aprile e teneva in mano proprio la katana inclusa nell'ordine quelle volte che i vicini l'avevano avvistato. Era molto soddisfatto del suo acquisto dato che scrisse una recensione super dettagliata. Alcune parti di ciò che scrisse però sono davvero disturbanti. Sentite. Per 20 dollari è davvero una lama eccellente. Sono davvero impressionato dalla qualità. La punta era affilatissima e capace di penetrare la maggior parte dei bersagli con cui l'ho testata. Ancora una volta ottimo acquisto per 20 dollari. Sicuramente capace di uccidere. Nella recensione era anche allegata una foto scattata da Seth in cui impugnava la spada. Sicuramente leggendo queste parole sorge qualche dubbio ma la recensione più disturbante di tutte sarebbe arrivata solo qualche giorno dopo quando Seth acquistò questo taser. Qualcuno nella sezione domande chiese avete mai usato il vostro taser e ha funzionato? Questa è la scioccante risposta di Seth. Ho comprato questo esatto modello di taser. In un momento di rabbia contro me stesso mi sono inflitto delle scariche in faccia e al collo circa 30 volte. È efficace. Emette un forte rumore quando usato che riesce a raggiungere le parti più oscure della psiche. È davvero una potente arma psicologica. Ha poi concluso dicendo che utilizzarlo contro di sé è stato esilarante a dire il minimo. A questo punto chiaramente chi leggeva le sue parole sul web rimaneva stranito e preoccupato ma per le persone che lo conoscevano nella vita reale le cose stavano iniziando realmente a diventare spaventose e pericolose. In quel periodo Seth chiamò suo padre e gli disse che Gesù gli aveva parlato e lo aveva scelto per svolgere alcuni compiti. Gli disse che era il prescelto e che era finalmente arrivata l'ora di iniziare a punire le persone. Il padre cosciente della situazione mentale di Seth si affrettò a chiamare le autorità. Non aveva idea di che cosa avrebbe potuto fare suo figlio. Purtroppo però le autorità non fecero nulla di importante lasciando a Seth la libertà di continuare la missione affidatagli dal messia. La sera del 2 maggio 2018 Seth invitò il suo ex fidanzato Christopher McCarthy nel suo appartamento. Lo implorò di andare a trovarlo perché aveva un bisogno disperato di lui. Diceva addirittura che la CIA stava ascoltando i suoi pensieri e che c'erano delle persone che vivevano dentro i muri di casa sua. Capendo che Seth aveva un grosso bisogno di aiuto, Christopher accettò e decise di andare a trovarlo. Una volta nell'appartamento i due iniziarono a parlare ma quella che all'inizio era una semplice chiacchierata si trasformò presto in un litigio pesante. I due iniziarono ad urlarsi contro sempre più forte e non ci volle molto tempo perché lo scontro diventasse fisico. In quel momento ebbe luogo uno dei sempre più frequenti episodi di rabbia incontrollata di Seth. Così afferrò la sua amata katana e improvvisamente cominciò a colpire Christopher ancora e ancora. Alla fine quella spada era stata davvero in grado di uccidere proprio come aveva scritto Seth nella sua lunghissima recensione. L'orripilante scena venne scoperta solo il giorno dopo. Gli addetti alla manutenzione aprirono la porta e si trovarono davanti il corpo senza vita di Christopher. Seth provò a fuggire ma subito dopo venne catturato. A quanto pare in quel momento stava cercando di svolgere il compito affidatogli da Cristo e non si sarebbe fermato ad una sola vittima. Avrebbe continuato quella punizione divina finché sarebbe stato necessario. Per fortuna non ha avuto e non avrà mai la possibilità di farlo ma se non fosse stato catturato subito le cose sarebbero andate diversamente. C'è chi lo conosceva da youtube e chi invece lo vedeva danzare di persona ogni mattina a San Luis. Nessuno però si aspettava che l'uomo che una volta era conosciuto per i suoi balli felici sarebbe diventato un killer. Ma sebbene a questo punto il quadro della situazione è sempre chiaro rimane ancora una cosa alla quale si fa fatica a dare una risposta. Perché Seth ballava? Qual era il reale significato della sua danza? La risposta potrebbe essere la cosa più disturbante di tutto questo caso. Alla fine del 2018 Seth venne intervistato e decise di fare chiarezza anche su questo. Sappiamo tutti che pensava di essere il prescelto selezionato direttamente da Gesù ma nell'intervista spiegò che lui non doveva incarnare la seconda venuta di Cristo o cose del genere piuttosto era convinto di essere l'anticristo. Nella sua testa era stato selezionato da Dio per portare sofferenza e dolore agli uomini. A questo punto tutto diventa chiaro e sentite cosa ha da dire Seth riguardo i suoi balli. Quello ero io che uscivo in pubblico e dimostravo alle persone di essere l'anticristo. Nella sua testa il fatto di ballare era una sorta di test. Se le persone lo avessero notato suonandogli il clacson o salutandolo per lui significava che riconoscevano i suoi poteri come anticristo. Più riceveva attenzioni durante i balli e più pensava che i suoi poteri fossero reali e come sapete di attenzioni ne ricevette parecchie. Queste non fecero altro che dargli conferme e spingerlo sempre di più vicino alla follia. E mentre era in atto questo lungo processo di discesa nell'oscurità di una mente le persone pensavano che fosse solo un ragazzo simpatico che danzava per far sorridere i passanti. Non sapevano che ogni clacson, ogni saluto, ogni fotografia avrebbe contribuito alla sua decadenza mentale. Immaginate quindi il potere che ha avuto il video fatto da Kevin Bennett e pubblicato su YouTube. Tutte quelle visualizzazioni e l'articolo che parlava di lui sono state la conferma definitiva per Seth. La conferma dei suoi poteri, della sua missione. Seth oggi si trova al city justice center in attesa di un processo. Il suo caso è complicato, strano e davvero inquietante. Ma sua madre, Margie, ritiene suo figlio non colpevole per infermità mentale e chiede che sia giudicato così in corte. Queste sono alcune delle sue parole. ha sofferto di allucinazioni per la maggior parte della sua vita adulta a causa di un disturbo schizzo affettivo. Il mio cuore è spezzato al pensiero dell'uomo che ha ucciso, di sua madre e della sua famiglia. Non perdono le azioni di Seth, ma essendo sua madre, lo amo. Ti rendi conto di aver perso il futuro che speravi per una persona amata? Non poi ti rendi conto che è anche peggio per l'altra famiglia? Almeno io ho la speranza. Loro non hanno nemmeno quella. È possibile dunque che in futuro Seth venga dichiarato non colpevole per via della sua condizione. Fino a quel momento non possiamo far altro che attendere un verdetto finale. Grazie a tutti.